Il progetto ENGINE, che è dedicato all'analisi della violenza di genere, ha una caratteristica fondamentale, che è quella di mettere insieme competenze di carattere teorico-politico, sociologico e giuridico e la realtà immersiva, proprio su questo aspetto, che consente ai partecipanti alla formazione di mettersi dal punto di vista nella posizione della vittima, della vittima di cut-calling e della vittima di stalking. Proprio questo aspetto ha riscosso un grande successo, abbiamo avuto moltissime richieste di riproposizione del progetto in contesti aziendali, scolastici o di associazioni cooperative, stiamo lavorando a questo e soprattutto abbiamo la possibilità di inserire un modulo relativo a questi temi anche nel pacchetto sicurezza della Scuola Superiore Sant'Anna, che quindi da questo punto di vista sarà pioniera.